Io il cinema lo amo. Che film ti piacciono? Quelli mentali tipo Inception. Sì, allora il mio film preferito è, non so se l'hai già visto, Shutter Island. È il mio preferito, tipo il che spegne e poi ti fai le domande. Una filosofia, sì, no? Bellissima. Che ansia. Mi emoziono un sacco. Sono grosso, però anche, mi piace, mi sono emozionato anche a me. E ho pianto per l'ultima puntata di We'll Meet Your Mind. Ma te lo giuro. Ma piangevo da solo, ho detto, dai, non posso piangere pure qua. Quindi ti commuovi. Sì, sono una persona molto emotiva. Se mi innamorassi sarebbe una cosa nuova. Magari mi porterebbe una ventata di novità nella monotonia di tutti i giorni. E magari mi porterebbe nuovi stimoli ad andare avanti. Hai avuto appuntamenti al buio? No. Nemmeno io. Infatti ero tesissimo. Sì, evidentemente che questo è un serial killer. Ce l'è un po' la faccia da serial killer. Io sono buono. Sono grosso, ma sono un buono. Sono un gigante buono. Mi assacchiamo. Sì. La cosa che mi imbarazza è l'aspetto fisico. Non ho molta fiducia in me stesso. Magari mi sento un po' inferiore agli altri. Ma quindi, le sue storie passate, hai avuto tante storie? No, sinceramente solo due. Sono durate tanto? No. Un massimo sei mesi. Come la mia otto, quindi non è che... Ti capisco. Era un po' grosso, un po' così. A me piacciono i ragazzini. Sì, è un po' i giganti buoni, diciamo. Esatto. Io principalmente è finita sempre... Quando avevo l'ansia sudo e mi tocco ripetutamente la barba. Insomma, mi si è chiuso lo stomaco. Non ce la faccio. Non so perché gli si fosse chiuso lo stomaco, però quando mi ha fatto notare che non aveva più fame a me mi sono accorta che anch'io stavo mangiando così... Certo. C'è un po' i miei figli. Ci puoi portare subito il dolce? Perché... Subno. C'hai degli occhi stupendi. Grazie. O stai che cambiano colore? C'è sono cerulei. Diventano sull'azzurro e sull'all grigio. In base al te, grigi. Grigi. Sì, sì. Sono chiedissimi. Grazie. Li invidio sempre. Grazie. Ci sono rimasta quando mi ha detto che avevo dei begli occhi e mi è piaciuto. Mi ha fatto un complimento e era da un po' che non ricevevo complimenti. No, io guardo sempre gli occhi... Quindi io ho vinto. Sì, gli occhi verdi. Gli occhi verdi e te hai vinto di me. Primo impatto appena l'ho vista. Credevo fosse Snowball perché comunque era una bellissima ragazza. Ma però poi ho visto che è una alla mano e non è come tutte le altre. Grazie. A voi. Grazie. Facciamo a metà. A metà. Tanto è il mio uomo. Abbiamo molte cose in comune e mi piace molto. Mi sembrava un film di due che stavano ormai... Si conoscevano da tempo, si frequentavano da tempo e stavano insieme da molto che comunque condividessero lo stesso dolce. Non mi era mai successo. Non avevo mai mangiato neanche un dolce se devo essere sincera con qualcuno. È stato bello. e se non è vero. Sì. E se non è vero. Questa è un film. Questa è un film... Lo stesso è un film a me.